continuiamo il nostro cammino di fede con l'aiuto di sua eccellenza monsignor Valentinetti quindi lo salutiamo con affetto e salutiamo anche gli ascoltatori buongiorno e ricordiamo che il cristianesimo non è una teoria o una filosofia che noi cristiani possiamo o no condividere ma un sistema di vita a cui aderiamo e che dobbiamo mettere in atto e per l'appunto oggi parleremo delle sette opere di misericordia corporale iniziamo con la prima opera dar da mangiare gli affamati in passato era uso comune dar da mangiare ai poveri ai passanti e ai bisognosi la porta di casa non era sprangata oggi la povertà è aumentata per la mancanza di lavoro e quello che peggiora la situazione è la grande diffidenza che alberga nei cuori degli uomini verso coloro che non si conoscono meno male che ci sono le associazioni di volontariato le menze dei poveri eccetera ma non sono sufficienti perché grande il numero dei bisognosi ognuno di noi deve imparare a condividere la domanda che mi viene da questa riflessione di claudia è questa ma la carità l'amore è delegabile o non è delegabile la risposta è molto semplice è molto scontata la carità l'amore non è delegabile a nessuno è vero che ci sono associazioni di volontariato ci sono le menze della caritas che suppliscono a molte carenze di carattere anche strutturale per coloro che vivono nell'indigenza e coloro che vivono in una situazione anche di non potersi procurare il cibo da mangiare nella nostra mensa della caritas diocesana noi prepariamo circa 200 pasti a mezzogiorno e 200 pasti la sera tenendo conto che sul nostro territorio ci sono anche altre due menze c'è la mensa di san francesco nella parrocchia di sant'antonio e c'è la mensa a montesilvano nella parrocchia di san giovanni bosco ma personalmente qual è il nostro impegno qual è il mio impegno certamente non se non è possibile attrezzare in ogni condominio o in ogni casa una mensa per i poveri ma il povero in quanto tale ci deve sempre interpellare il povero quando è vero povero perché ci sono anche purtroppo i finti poveri ci devo ci deve interpellare e questo dar da mangiare agli affamati è certamente un'opera di carità un'opera di misericordia che riguarda la realtà vicina a noi ma che riguarda anche la realtà lontana da noi quanti popoli della terra vivono ancora nella fame ci sono circa 800 milioni di persone che oggi nel mondo particolarmente nei paesi del sud del mondo non hanno cibo a sufficienza per nutrirsi cibo a sufficienza e non solo a sufficienza ma anche cibo direi diversificato perché la nutrizione possa essere adeguata alle esigenze del corpo di un uomo di una donna tutto questo ci interpella come usiamo noi il cibo perché il dar da mangiare agli affamati ci pone anche al grande interrogativo di come usiamo il cibo il cibo sprecato quando cibo si spreca oggi nelle nostre case specialmente quando andiamo al supermercato e compriamo ciò di cui non abbiamo bisogno da da calcoli e da statistiche che sono state fatte un terzo della roba che le famiglie italiane comprano al supermercato va buttato e allora il dar da mangiare agli affamati ha tutte queste implicanze che certamente sono molto importanti per la nostra vita e soprattutto per la nostra vita cristiana esaminiamo la seconda dare da bere agli assetati chi avanti con l'età ricorda il tempo in cui era necessario andare a raccogliere l'acqua per l'uso domestico spesso le fontane erano a secco era un grosso disagio per cui è facile immaginare le difficoltà di chi vive in paesi dove c'è siccità o chi abita in casa dove mancano luce gas eccetera l'acqua è essenziale nella vita dell'uomo l'uomo vive e rinasce nell'acqua l'uomo vive e rinasce nell'acqua e il problema non è solo di quei popoli che purtroppo vivono molto spesso una siccità endemica e con i cambiamenti climatici purtroppo stiamo assistendo al fatto che più estesi spazi di territorio nel mondo sono afflitti dalla siccità ma non solo è questo il problema del dar da bere agli assetati ma anche la riflessione che l'acqua è un bene comune è un bene di tutti l'acqua non si può e non si deve privatizzare l'acqua è un dono di dio alla terra che scaturisce dalla terra spontaneamente scaturisce dalle montagne dai grandi giacimenti direi degli acciai e delle nevi dai fiumi che da essi derivano e vengono donati a tutta l'umanità il popolo italiano ha fatto un referendum per dire che l'acqua è un bene comune e non deve essere privatizzata ma purtroppo le grandi multinazionali dove arrivano purtroppo fanno danno stanno acquistando le grandi sorgenti perché l'acqua per il futuro e dell'umanità è un bene necessario avremo forse bisogno di comprare sempre di più l'acqua e comprarlo da chi e comprarlo a che prezzo e allora forse il dar da bere agli assetati implica delle riflessioni molto più ampie che non semplicemente la riflessione per il povero l'ammalato colui che ha bisogno di poter bere acqua così come tutti gli uomini della terra e poi per accidents non sprechiamo l'acqua perché lì siamo responsabili tutti e quanta acqua sprechiamo vestire gli ignudi chi vive nella povertà assoluta chi vive in strada a mille necessità famiglie dignitose e con figli in crescita che non hanno come comprare scarpe abiti perché hanno perso il lavoro i loro volti dignitosi sembrano ricordarci che la nostra è una repubblica basata sul lavoro c'è altra via possibile oltre alla solidarietà di ognuno di noi senza dubbio c'è la via possibile ad una solidarietà che possa essere il condividere non solo il pane non solo l'acqua ma anche tutto ciò che è un vestiario direi adeguato alla propria persona e alla propria vita ma anche qui c'è un risvolto del problema che uso ne facciamo dei nostri vestiti quanto tempo li usiamo quanto tempo li custodiamo perché li possiamo riusare fino a quando non diventano veramente vecchi e poi amiamo vestire semplicemente sia pure dignitosamente e sia pure direi anche con vestiti adatti alle occasioni che abbiamo nella vita o forse molte volte non siamo alla ricerca di vestiti ricercati o di vestiti di un super lusso che possono in qualche modo soddisfare delle ambizioni che si annidano nel cuore di ognuno di noi i grandi stilisti le grandi passerelle di moda sicuramente anche questo è cultura perché la moda è una cultura di un popolo e il popolo italiano è esperto in questo aspetto importante anche della vita del commercio e quindi del beneficio che si può creare attraverso un lavoro anch'esso dignitoso ma attenzione che non sia realmente una capriccio costante quello di pretendere di più delle nostre possibilità e di di pretendere di vestire in un modo che certamente costa troppo costa veramente tanto e sarebbe uno schiaffo a chi forse non può comprarsi nemmeno un pantalone e una giacca per essere dignitoso nella sua vita alloggiare i pellegrini ormai abbiamo tanta difficoltà ad avere fiducia nei confronti del prossimo le nostre case sono off limit era bello quando le porte delle nostre abitazioni erano aperte e noi bambini correvamo fuori e dentro di esse accolti con dolcette caramelle tutti trovavano ospitalità si provava molto interesse per i viandanti abiti cibi in cambio della loro storia e della loro simpatia che oltretutto spezzavano la noia del tempo non è nostalgia del passato non serve tornare indietro ma è importante crescere diventare migliori e non regredire anche se è comprensibile il timore che hanno alcuni perché in molti fatti di cronaca nera ci invitano alla prudenza attualmente chi deve alloggiare i pellegrini i privati o devono essere gli stati non ci troviamo di fronte a un fenomeno molto importante non ci troviamo di fronte al fenomeno del pellegrino singolo o al fenomeno del singolo straniero che può bussare alla porta della nostra casa e alla porta della nostra città quando ci sono fenomeni migratori come quello a cui stiamo assistendo in questi mesi e in questi anni certamente il singolo può fare ben poco ed è compito dello stato avere il coraggio di intraprendere azioni per poter dare ospitalità a chi la chiede e soprattutto ospitalità a chi fugge dalla fame a chi fugge dalla guerra a chi fugge dalle distruzioni a chi fugge da situazioni veramente rammaricanti e imbarazzanti certamente in mezzo a tante persone che possono bussare non tanto alla porta della nostra casa ma probabilmente bussano alla porta della nostra città alla porta del nostro quartiere alla porta delle realtà presenti sul territorio che si aprono generosamente all'ospitalità in mezzo a tante persone buone e brave questo lo dico per esperienza per i pellegrini cioè gli immigrati che noi accogliamo nelle nostre strutture caritas ci sono tantissime persone brave e buone sono la maggioranza certamente la mela marcia può mischiarsi a queste persone la mela marcia può essere pericolosa anche per queste stesse persone non dobbiamo dimenticare che perché essi potessero arrivare in italia o potessero arrivare in europa molto spesso si sono sobbarcati a un direi ad una ambiguità ad un compromesso pagare dei trafficanti di uomini che potessero trasportarli in italia senza nessuna certezza di vita perché tante persone hanno perso la vita con i barconi lungo il canale di sicilia e perdono la vita anche quando intraprendono viaggi via terra ma sicuramente sicuramente se ci sono le mele marce le mele marce sono dappertutto non dobbiamo mai dimenticare che siamo stati anche noi un popolo di migranti anche noi siamo andati in america del sud in america del nord siamo andati in australia siamo andati in germania in svizzera ebbene ebbene purtroppo anche noi abbiamo esportato la malavita in america particolarmente abbiamo esportato la mafia perciò dovunque c'è un uomo buono purtroppo ci può essere anche un uomo cattivo ma noi accogliamo quello buono perché non diventi cattivo visitare gli infermi è più facile star meglio curarsi quando si hanno bravi medici e familiari affettuosi ma bisognerebbe riscoprire la cura di chi è solo e povero abbiamo ascoltato più di una volta persone trovate morte nelle proprie abitazioni senza che nessuno se ne accorgesse in condomini per fortuna non non in tutti dove alberga l'egoismo e la superficialità e non c'è più l'abitudine ad aiutarsi a vicenda qual è la modalità per avere buoni rapporti con i sofferenti certamente oggi la cura dell'ammalato non spetta più alla singola persona spetta certamente alle strutture sanitarie le strutture sanitarie che siano adeguate a rispondere alle necessità fisiche degli ammalati ma l'ammalato non ha bisogno solo di cure sanitarie l'ammalato ha bisogno di amore ha bisogno di compassione ha bisogno di solidarietà ha bisogno di compagnia ha bisogno di sollievo ha bisogno di amicizia ha bisogno di trovare un volto che sia sorridente e fraterno che possa stendere una mano buona e amica a chi si trova in quella necessità ma il problema del visitare il malato o essere attenti alla situazione della malattia ci porta a dire anche un'altra verità com'è la situazione sanitaria oggi in italia facciamo una vera cura del malato o facciamo un business sul malato da quando gli ospedali sono diventate sono diventati aziende socio sanitarie cioè aziende l'azienda di per sé ha uno scopo ben preciso o andare a pareggio o guadagnare e quando abbiamo messo a capo delle strutture sanitarie un direttore generale chiamato anche manager noi ci troviamo di fronte non più all'assistenza del malato ma ci troviamo di fronte a un'industria allora è questa la strada che dobbiamo percorrere certamente le risorse sono sempre di meno e le risorse fanno sempre più fatica e dall'altra parte la scienza fa sempre più progressi in avanti per per la cura della persona ma questi progressi costano molti soldi e tutto quello che può essere la cura di un ammalato che prima poteva essere fatto con pochi soldi adesso diventa veramente dispendioso ma forse dobbiamo arrivare alla stessa situazione dell'america degli stati uniti per cui chi ha un'assicurazione per la malattia sopravvive alla malattia ma chi non ha un'assicurazione purtroppo è abbandonato a se stesso dio non voglia che anche nella nostra europa e anche nella nostra italia si arrivi a tutto questo perché sarebbe realmente un disinteressarsi degli ammalati e soprattutto degli ammalati che non hanno per poter pagare le proprie cure visitare i carcerati altra realtà durissima da affrontare nella nostra quotidianità è l'ultimo pensiero che abbiamo eppure la mancanza di libertà l'allontanamento dalla propria famiglia sono causa di grandissima sofferenza molto difficile da sopportare la nostra curiosità arriva fino alla conoscenza della condanna che viene inflitta al reo e a volte per tragico errore all'innocente dopodiché scatta l'oblio e l'indifferenza con quali occhi guardare i carcerati guardare i carcerati con l'occhio senza dubbio importante di due concetti che la pena non è mai una pena vendicativa ma che la pena possa essere sempre una pena medicinale si sta in carcere non tanto per scontare e pagare con la propria sofferenza e con la propria restrizione carceraria il male che purtroppo si è fatto e si è compiuto questo sarebbe una pena vendicativa d'altra parte sappiamo bene che la pena della condanna a morte della pena di morte è una pena vendicativa tu hai inflitto la morte dunque devi morire anche tu perché non sei degno di stare nel consesso umano ma una società che non riesce a ridare a una persona la possibilità di stare in un consesso umano è vera è una società che ha fatto un cammino di civiltà o è una società che ancora molto indietro e deve ancora molto camminare sui diritti umani ci può essere direi il delinquente più incallito nel male e più incallito nell'egoismo e nella cattiveria ma se io non parto dal concetto che anche in quell'uomo parlo certamente per un cammino di vita cristiana che anche in quell'uomo c'è l'immagine e la somiglianza di dio un'immagine e una somiglianza di dio senza dubbio abbrutita dal male dalle cattiverie forse anche dagli omicidi e dai pluri omicidi ma la società la fede la chiesa ha il compito di tirar fuori da quell'uomo la sua vera umanità e ha il compito di tirar fuori da quell'uomo quella fede che pure è iscritta nel suo intimo allora la pena deve essere medicinale cioè deve guarire deve essere capace di riportare l'individuo nel consesso umano mi si dirà che è difficile e che molte volte che si esce dal carcere si torna a delinquere e anzi che il carcere è l'università del crimine specialmente per i giovani ma le nostre carceri sono organizzate in modo tale da poter essere quei luoghi in cui più che scontare delle pene sia del tempo poco o tanto tempo per una rieducazione della propria vita e della propria persona nel lavoro nello studio nell'impegno per gli altri e per se stessi e poi il secondo concetto molto importante il carcerato deve entrare nella logica di una giustizia riparativa una giustizia riparativa che lo porta a chiedere perdono ea ricevere il perdono anche da chi ha offeso da chi ha ucciso su questo potremmo parlare a lungo ma certamente in altre circostanze saremo molto più espliciti bene io avrei l'ultima opera di misericordia corporale però per ragioni di tempo ribandiamo quest'ultima opera ad una prossima trasmissione anche se non è molto bello spezzare però il tempo è tiranno a risentirci amici ringraziamo sua eccellenza e ringraziamo tutti per il cortese ascolto